un saluto da Ivan Papanelle ben ritrovati sul canale youtube di Cellulare Magazine oppo rinnova la propria famiglia Reno con Reno 12 e Reno 12 Pro che è il protagonista di questo video uno smartphone che incorpora diverse interessanti novità che adesso cerco di andare ad elencarvi parto senza dubbio dal sistema on chip il nuovo Mediatek Dimensity 7300 Energy for Reno questa è la descrizione precisa un insieme di processori con processo produttivo a 4 nanometri che è dotato di una particolare attenzione per la gestione dei processi di intelligenza artificiale troveremo all'interno di questo telefono alcune applicazioni con i dettagli che portano anche in questa fascia di mercato in questo segmento di mercato una nuova attenzione anche ai concetti di intelligenza artificiale vi parlavo del segmento di mercato perché la serie Reno da sempre va a collocarsi in una zona strategica del mercato quella quella fascia medio medio alta che riesce a fornire all'utente contenuti di qualità una positiva esperienza d'uso ma senza arrivare a quelle cifre importanti dei top di gamma non sfugge a questa considerazione anche appunto questo Reno 12 Pro vi devo chiedere la pazienza di non poter in questo momento fornire dei dati precisi perché mentre sto girando questa recensione ci sono alcuni dati che non sono ancora arrivati in maniera ufficiale uno di questi è il prezzo che dovrebbe collocarsi per questa versione del Reno 12 Pro a 599 euro quindi diciamo intorno ai 600 euro ma vi rimando quando questa recensione sarà online sia alla parte descrittiva di questo video ma anche soprattutto alla recensione scritta sul nostro sito sul cellulare magazine punto it proprio per avere gli ultimi dettagli alcuni dei quali non li ho a disposizione proprio in questo momento ma il ragionamento voleva essere quello di parlare di un dispositivo che costa quasi la metà o magari poco meno della metà rispetto ai top di gamma che cosa vi mette a disposizione una qualità costruttiva veramente importante un telefono ben assemblato con buoni materiali con anche una ricercatezza evidente per ciò che riguarda alcuni dettagli estetici ne abbiamo ricevuto questa colorazione come potete vedere a queste striature che tendono anche a cambiare nella forma del colore però in base all'incidenza della luce la parte posteriore è assolutamente bella e molto elegante forse c'è un design che richiama smartphone di qualche generazione fa ma la trovo comunque estremamente piacevole tra le altre cose il telefono cosa non secondaria risulta essere direi compatto e leggero sia rispetto ad alcuni concorrenti ma anche proprio alla gran parte dei top di gamma perché abbiamo un spessore di inferiore 7,5 mm e un peso di circa 180 grammi consideriamo che in questo momento accettiamo in maniera abbastanza normale telefoni che hanno pesi magari che superano addirittura i 230 grammi quindi facendo appunto una tara direi che un telefono che in questo momento risulta essere addirittura piuttosto compatto e leggero andiamo a vedere con proseguiamo anzi con la descrizione con la scaletta tipica delle nostre recensioni poi via via incontreremo alcune cose sulle quali cercherò anche di mettere qualche punto esclamativo perché ce ne sono partiamo da display 6,7 pollici la diagonale un pannello amoled con frequenza aggiornamento che può arrivare fino a 120 hertz ecco una delle cose che volevo sottolineare la possibilità anche di personalizzare la frequenza di aggiornamento anche per singola applicazione quindi determinare noi quali hanno necessità di arrivare a 120 hertz e quali invece magari possono utilizzare un più conservativo 90 o 60 hertz full hd 1080 x 2412 pixel con picco di luminosità che può arrivare nella modalità standard a 600 nits nella modalità picco a 1200 nits allora questi sono valori che si è relazionati ai recenti top di gamma possono apparire modesti ma non lo sono perché sono valori che erano ad appannaggio dei display migliori che avevamo a disposizione fino a pochi anni fa sui top di gamma quindi senza da arrivare ad avere quei picchi di luminosità che abbiamo sui top di gamma questo display si comporta in maniera più che affidabile all'aperto e tra l'altro una resa colori decisamente interessante altra cosa sulla quale volevo porre una particolare attenzione è la fotocamera frontale al di là dei 50 megapixel di risoluzione c'è una cosa che mi è veramente molto piaciuta ed è questa la fotocamera frontale dispone del sistema di messa a fuoco continua anche nella modalità video adesso magari quando apriamo i contenuti multimediali vi faccio vedere un brevissimo video dimostrativo che cosa vi permette di fare questa cosa quando stiamo girando un video abbiamo la necessità di inquadrarci quindi di vederci all'interno del display perché magari manca l'operatore perché ci stiamo divertendo per altri motivi ma l'esempio che faccio sempre è una cosa tipica del nostro lavoro quando mi capiti di dover far vedere un prodotto e mi sto riprendendo da solo ci sono ancora moltissimi smartphone in particolare a questo punto della fascia media perché sul top di gamma questa soluzione l'abbiamo oramai sdoganata quasi su quasi tutti gli smartphone avvicinando il prodotto alla fotocamera il prodotto non va a fuoco resta fuoco soltanto il mio faccione ecco la possibilità di avere questo sistema di messa a fuoco ibrido anche sulla fotocamera frontale vi aiuta tantissimo nella classica operazione da blog o comunque in tutte quelle circostanze che richiedono una qualità video anche per ciò che riguarda la messa a fuoco di un livello un pochettino più alto molto bene questa cosa la trovo molto utile andiamo a vedere il fingerprint che è negato sotto al display un sistema di riconoscimento per i punti digitali che funziona molto bene preciso e veloce non mi ha fatto impazzire il feedback che rende al display quando lo si prema ma in realtà è una caratteristica che riguarda un po tutto il feedback della vibrazione di questo telefono che non è non è del tutto convincente e io lo noto particolarmente durante lo sblocco dello 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 smartphone vi parlavo prima di uno spessore molto contenuto sulla destra abbiamo il pulsante di accensione e il controllo del volume nella parte superiore abbiamo il secondo altoparlante trasmettitore a infrarossi anche il secondo microfono completamente liscio il profilo di sinistra nella parte inferiore abbiamo anche qui qualcosa che ho ritrovato con grandissimo piacere allora andiamo con ordine c'è l'altoparlante di sistema un connettore usb tepsi il microfono principale e uno slot ibrido che ci permette di utilizzare o due sim o una nano sim e una scheda micro sd questa è una gran bella notizia perché le schede micro sd purtroppo stanno scomparendo anche dai telefoni di fascia medio e medio bassa sono contentissimo di ritrovarlo su questo oppo reno 12 pro senza doverci bere tutte quelle fesserie che qualcuno prova a farci accettare della del fatto che le schede micro sd possano rallentare il telefono se si comprano delle schede micro sd di qualità il telefono non rallenta e abbiamo tutti quei vantaggi di poter ad esempio backupare dei dati su una scheda che possiamo estrarre quando ne abbiamo bisogno per trasportare dati da un telefono all'altro oppure cosa che può capitare di tanto in tanto magari il telefono si guasta ci cade si rompe basta estrarre la scheda e abbiamo salvato tutto senza necessità di dover lasciare le cose sul cloud di avere a disposizione una rete dati un sistema elementare semplicissimo che purtroppo hanno deciso di non farci più usare ma sul oppo reno 11 pro lo trovate sono contento di specificarlo cos'altro vi devo raccontare parte posteriore c'è questo modulo fotocamera un triplo modulo fotocamera con sensore principale da 50 megapixel con apertura f 1.8 e lunghezza focale corrispondente da 26 mm questo elemento è stabilizzato abbiamo poi una telefoto da 47 mm di circa una 2 per f 2.0 anche questo valore è di assoluto interesse e una 8 megapixel ultra wide quindi per acquisire foto panoramiche 5000 mAh la batteria con sistema di ricarica super voce può arrivare fino a 80 watt quindi una velocità ricarica molto importante lo è ancora di più considerando la categoria del telefono che vi permette di caricare la batteria in maniera molto veloce tra l'altro abbiamo anche il power delivery ma volevo parlarvi di autonomia il telefono tende a scaldare veramente veramente molto poco anche quando viene utilizzato in maniera piuttosto impegnativa questo fa sì che ci sia un'autonomia di ottimo livello se arriva sera senza il minimo problema fa parte delle cose che mi sono particolarmente piaciute di questo di questo smartphone vi parlavo prima di un sistema on chip che prevede il mediatek 7300 energy forreno che appunto vi dicevo è stato personalizzato con delle personalizzazioni che riguardano poi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale proprio per oppo il sistema on chip viene anche assistito da 12 giga di memoria ram e anche da 512 giga di archiviazione quindi abbiamo tantissima memoria a disposizione sia lato memoria ram ma anche per ciò che riguarda l'archiviazione abbiamo a che fare naturalmente con la color os in versione 14 che gira su android 14 quindi con l'interfaccia utente di oppo che lavora su android 14 vengono dichiarate al momento del rilascio tre release di sistema quindi tre aggiornamenti del sistema operativo un'interfaccia utente che ritroviamo sempre con piacere un'interfaccia fortemente personalizzabile molto potente dal punto di vista delle delle funzioni c'è davvero da perderci si può personalizzare più o meno tutta la parte grafica con anche la dimensione la grafica delle icone i bordi gli spigoli delle icone ovviamente tutto ciò che riguarda la parte di di colori all'interno di questa voce schermo e luminosità possiamo lavorare anche sulla sulla possibilità di attivare la modalità scura dello smartphone oltre a naturalmente a quella chiara la luminosità automatica vediamo anche qui la velocità di aggiornamento del display ve ne parlavo poco fa si può utilizzare una selezione automatica standard a 60 hertz o alta a 120 hertz prima vi parlavamo che della possibilità di andare a lavorare sulle singole applicazioni ecco questa voce che troverete nel menu nel menu contestuale del display vi permette di andare a lavorare sulle varie applicazioni troverete tre possibilità 60 hertz 90 hertz che in questo caso è predefinito per il browser firefox o il 120 hertz questa cosa la ritroviamo in in tutte le altre applicazioni che sono qui in questo lunghissimo elenco e abbiamo quindi la possibilità di personalizzare tutto quanto abbiamo già parlato del fingerprint nella sezione dell'applicazione abbiamo la possibilità di clonare le applicazioni con app cloner sempre anche in questo caso molto comodo troverete alcune applicazioni suggerite ma anche la voce altre app che vi fa entrare nel ulteriore elenco di applicazioni sulle quali si può intervenire appunto per bloccare le applicazioni e renderle inutilizzabili se ad esempio il telefono non riconosce il proprio utente di riferimento il proprietario e quindi se prestiamo il telefono a qualcuno sarà una cosa estremamente comoda e anche qui c'è poi un secondo menu che ci permette di lavorare su tantissime tantissime applicazioni volevo farvi vedere in ordine questa cartellina strumenti che racchiude alcuni utility da usare nella quotidianità come il blocco note come il trasmettitore infrarossi ve ne parlavo prima la calcolatrice ma anche o relax e zen space che sono applicazioni che in modalità leggermente differente ci permettono di avere un utilizzo più consapevole dello smartphone ci sono dei momenti che ci viene suggerito di staccarci un istante dallo smartphone quindi di prendere un pochettino fiato magari ascoltando delle musiche rilassanti il rumore della natura il rumore del mare tutte quelle situazioni che possono conciliare anche un relax maggiore ma da qui partiamo anche con qualcos'altro vi parlavo poco fa di alcuni aspetti che riguardano l'intelligenza artificiale che troviamo all'interno di questo telefono una delle prime cose lo troviamo nella modalità di registrazione è qualcosa che abbiamo già visto anche su altri dispositivi ma consideriamo appunto che lo stiamo trovando su uno smartphone di fascia media e della possibilità ad esempio utilizzando una registrazione di farla poi trascrivere abbiamo qui questo pulsantino di riferimento e questo ci può venire in aiuto ad esempio per trascrivere alcune riunioni e alcune conferenze stampe le cose che capita spessissimo nel nostro nel nostro lavoro c'è poi un'altra applicazione che è veramente un crack e divertentissima da utilizzare che ai studio ma mi prendo un istante la riguardiamo tra qualche momento perché volevo farvi vedere qualcosa di precedente anzi facciamo così prima lancio la chiamata in questo caso al 177 di Iliad per farvi vedere come funziona la parte telefonica è gratuita se chiami da rete Iliad se chiami da altra rete si applicheranno le tariffe del tuo opere allora la parte telefonica è molto buona per ciò che riguarda la capacità del sistema di dialogare di relazionarsi con le reti quindi nella fase di trasmissione e di ricezione del segnale c'è qualcosa di molto interessante per ciò che riguarda il volume ma prima volevo dirvi che la qualità acustica forse ogni tanto è un pochino metallica sia in capsula che in viva voce probabilmente ciò dipende dal fatto che un telefono che dispone di speaker con che rendono un volume molto alto anzi nell'ascolto di contenuti multimediali basterà ad esempio aprire un normale video su youtube c'è un boost che riguarda l'audio che può essere aumentato fino al 300 per cento proprio per avere un volume altissimo diciamo che si è trovato un discreto mix tra il volume molto importante e una qualità che in presenza di componenti così piccole non è facilissimo da da ottenere ma direi che il risultato che si è ottenuto è di buon livello andiamo a vedere la navigazione internet browser chrome richiamiamo la home page di cellulare magazine facendo uno scroll dei contenuti della nostra home page che non è neanche leggerissima da muovere non ci sono particolari scattosità non ci sono rallentamenti che è una condizione che ritroviamo un po in tutto l'utilizzo di questo smartphone non esita con le prestazioni monster dei top di gamma ma non manca assolutamente niente si comporta certamente bene anche da questo punto di vista ribadisco con il supporto poi di 12 giga di memoria ram in questo caso anche di 512 giga di archivazione andiamo a vedere anche la fotocamera perché anche qui c'è qualcosa che merita di essere descritto allora la fotocamera ci presenta il classico sistema di interfaccia con in questo caso questo cursore che ci può permettere di lavorare con l'ultra wide la 1 per e la 2 perché come dicevamo poco fa è una fotocamera con una moltiplicazione ottica si può arrivare poi anche a un 5 per ibrido ma anche forzando a valori di zoom addirittura più elevati come il 20 per modellità video modalità con controllo manuale modalità ritratto in questa voce altro ci sono altri dettagli come ad esempio la possibilità di lavorare in alta risoluzione e non in pixel binning e anche con la modalità notturna qui altri possibili interventi come l'aspetto di forma che può essere quadrato 4 terzi 16 noni o nell'interesse del display che mi pare che sia in 20 noni si può poi lavorare sull' hdr automatico di scatti in sequenza e una serie di altre di altre impostazioni allora in questo momento dispongo del mio giocato colorato ma di una scatola di caramelle che fotografo insieme a voi e la utilizzo per aprire anche la galleria per vedere come si comporta questo telefono in ambito fotografico e poi mi sposto anche a farvi vedere quell'applicazione della quale vi parlavo qualche qualche istante fa questa è la scatolina che abbiamo appena appena fotografato vediamo anche ecco guardiamo insieme questo video fotocamera frontale il mio faccione a fuoco ma se avvicino la mano va a fuoco anche la mano quindi questa è una è una comodità veramente importante in sequenza questo orsetto che di tanto in tanto utilizzo per simulare gli animali domestici abbiamo quasi tutti in casa c'è una resa piuttosto buona anche del del manto di questo orsetto questo cubo colorato che utilizzo anche per valutare un po la fedeltà del colore con con i telefoni un fiore anch'esso finto ma che mi dà la possibilità di avere la certezza che i colori sono sempre gli stessi ecco da qui volevo anche farvi vedere questa sequenza di immagini queste foto sono state scattate con la modalità ritratto modalità ritratto che vi permette di lavorare su un diaframma che è simulato addirittura fino a f 1.4 ma la resa mi sembra piuttosto interessante questo è uno scenario non complicatissimo ad andare a interpretare ma guardate come è stato sfogato bene la pianticella e anche il cubo colorato che è naturalmente posizionato nella parte posteriore quindi nel secondo piano dell'immagine con l'orsetto invece che è stato ben scantonato ho provato a eseguire anche la stessa fotografia con l'inquadra e scatte come potete vedere nel mio ufficio ci sono qui gli scatoloni che contengono una serie di altre cose ecco una delle funzioni che si può utilizzare con facilitare che riguardano l'intelligenza artificiale è ad esempio la rimozione di oggetti o persone ora vi faccio vedere il risultato finale ma vediamo che come funziona questa foto e questa sono identiche come potete vedere c'è questo dettaglio di questa scatola posizionata qui in basso sulla destra che invece non vediamo più nella foto successiva che è la stessa identica che è stata semplicemente trattata con il sistema di modifica basterà premere questa matitina che ci dà la possibilità di andare a lavorare sull'editing fotografico c'è questa voce che si chiama eliminatore ai chi ci si clicca sopra e abbiamo una serie di possibili scelte come la rimozione di una persona oppure l'azio intelligente basterà premerci sopra io vado a indicare che voglio far scomparire questa scatola come potete vedere il telefono sta in questo momento elaborando una serie di informazioni rimozione dell'oggetto che viene rimosso e poi c'è la ricreazione cioè viene l'immagine ricostruita letteralmente per darci la possibilità di avere un'immagine che sia piacevole e gradevole dal punto di vista estetico la faccia la salviamo come fotografia nuova quindi di fatto abbiamo una foto nuova e come potete vedere il risultato esattamente quello che stavamo vedendo prima ma non è finita e ci ritorniamo su tra qualche minuto qui ancora fiori ancora la possibilità di lavorare con gli elementi della ritrattistica questo è il nuovo manichino che utilizzo per la parte di ritratti distra devo dire che anche in questo caso il comportamento è stato piuttosto buono anche se questa condizione di scatto non è favorevole come quella dell'ossetto che abbiamo visto poco fa perché gli elementi di scatto sono molto più vicini quindi la profondità naturale dell'immagine viene ovviamente mortificata ma è come posizionato gli oggetti che può andare a mettere in difficoltà qualsiasi sistema ma io lo faccio volutamente mi sembra che il risultato sia decisamente buono un fiore bianco qui il mio faccione con la modalità ritratto della fotocamera frontale che ha scantonato molto molto bene il mio sfondo stessa immagine una faccia da pistola ancora più evidente ma che rende molto più visibile la parte posteriore questo è l'inquadra scatta con la fotocamera frontale poi una sequenza di immagini però faccio così torno qui all'inizio con la ultra wide con la 1x la 2x e qui ho provato a forzare con la 20x che come dicevamo prima impone un notevole intervento digitale ma secondo me riesce a regalare dei dettagli ancora ben visibili che non sono eccessivamente deteriorati quindi un buon risultato complessivo direi che anche sulla 1 per sulla 0 5 per scusate c'è una prospettiva direi ben gestita a chi lo conosce questo è il nuovo centro commerciale cascina merlata che è stato aperto da pochi mesi proprio la parte esterna come potete vedere anche la correzione della prospettiva mi sembra piuttosto buona andiamo all'inizio di questa sequenza di fotografie allora qui c'è maia fotografata di sera con una condizione di luce davvero davvero precaria ma in questo caso anche qui il dettaglio è stato ben conservato ovviamente si va a zoomare tantissimo si percepisce un pochettino di nitidezza inferiore rispetto a foto scattati con migliori condizioni di luce ma comunque una foto ben più che utilizzabile andiamo a vedere la sequenza di scatti invece con la modalità automatica e successivamente con la modalità notturna partendo naturalmente dalla ultrawide che ve lo devo dire con tutta franchezza è probabilmente nel trittico delle fotocamere quella che rende delle prestazioni un pochino inferiori alla media da la media vedete che c'è una esposizione in questo caso che è decisamente perfettibile per ciò che riguarda le parti scuri del cielo ma anche la zona posteriore e naturalmente anche il dettaglio è poco visibile lo è per due motivi perché normalmente le fotocamere che dispongono di lenti ultra wide non sono per nulla facilitate nella resa di un dettaglio fine in questo caso abbiamo anche una risoluzione che non è altissima diciamo da soli tra virgolette 8 megapixel la situazione ha un deciso miglioramento quando si scatta con la fotocamera 1x in questo caso il cielo è stato decisamente meglio interpretato ma anche poi con la 2x direi che c'è una qualità decisamente buona ma guardate che balzo in avanti che fa l'immagine quando utilizziamo la modalità notturna il cielo che prima era completamente scuro e quasi illegibile diventa molto più leggibile con una una gamma decisamente più apprezzabile anche nelle sfumature del colore un miglioramento che coinvolge naturalmente anche la 1x e perché non dovrebbe anche la 2x sono immagini complessivamente di buona qualità con un resa assolutamente adeguata a uno smartphone con questo con queste caratteristiche ora vi faccio vedere anche questa fotografia perché mi riallaccio a qualcosa che ho lasciato volutamente per ultimo ma che trovo molto interessante questa è una foto che mi è stata scattata proprio qui in redazione dove mi trovo in questo momento guardate il mio il mio faccione la mia espressione questa foto la ritroviamo adesso in questa applicazione ai studio che è un'applicazione che lavora fortemente con il supporto dell'intelligenza artificiale un'applicazione che richiede una connessione a internet ma che vi permette di divertirvi in maniera davvero semplice e vedrete molto efficace nel creare delle immagini da qui il classico concetto di intelligenza artificiale generativa perché andrà a mixare delle immagini presenti sullo smartphone oppure che acquisirete in tempo reale creando degli scenari che sono diversi da quelli della della realtà allora vi faccio vedere ad esempio se entriamo nella modalità single qui ci sono alcune immagini che probabilmente verranno più utili alle alle ragazze ma io preferisco usare ecco siamo queste ecco queste immagini qui ho un sacco di voglia di mare in questi in questi periodi la realtà che ho già provato questa questa funzione e volevo replicarla con voi come potete vedere c'è questo pulsantino alla parte inferiore con già l'anteprima della foto che abbiamo visto poco fa volendo potete premere sulla modalità più andare a selezionare un'altra immagine della vostra galleria oppure acquisire una nuova immagine da zero ma io per velocizzare il processo ho precaricato già questa fotografia chiedo allo smartphone di generare un'immagine lo smartphone incomincia a lavorare ci proporrà una tabella con quattro anteprime dopodiché parte un conto alla rovescia nel quale veniamo avvisati che mancano 46 43 40 secondi in questo caso 37 per generare le immagini le quali parlavamo la realtà che il telefono ci mette meno di quello che dice all'inizio ma guardate che cosa tira fuori naturalmente chi mi conosce chi ha visto la foto sa benissimo di questo mio faccione e il fatto che non ho non ho capelli in testa guardate che cosa tira fuori oltre a dover mi ringiovanito di boom almeno una trentina di una trentina d'anni oramai ho superato i 50 anni tira fuori questo genere di immagini che va bene possono fare anche sorridere per la composizione ma trovo che siano incredibilmente credibili perdonatemi il senso e controsenso di quello che sto dicendo perché queste immagini non è artificiale non risulta essere l'artificiale è stata generata con un'intelligenza artificiale ma sembra verosimile da osservare e vi assicuro che lo è in tantissimi altri contesti qui oppo reno 12 pro ha compreso il mio desiderio di mare di questi giorni mi ha portato su una barca con dietro il mare ma al di là degli scherzi credo che ci sia una resa veramente divertente e credibile ciò che si ottiene da questo sistema è qualcosa di veramente credibile così come quella situazione di editing che abbiamo visto poco fa che riguarda la possibilità di andare a far scomparire alcuni alcuni dettagli indesiderati all'interno di una stessa fotografia questo è il quadro complessivo di questo telefono oppo reno 12 pro che utilizza anche un model 5g quindi con tutte le moderne tecnologie anche per ciò che riguarda la trasmissione dei dati un telefono che secondo me si contestualizza nell'efficacia tipica del mondo oppo e del della famiglia reno che da sempre ci permette di utilizzare degli smartphone di buona qualità con dei presti certamente più alla portata di una vasta fetta di pubblico ribadisco c'è qualche dettaglio che non ho potuto specificare in maniera più precisa all'interno di questo video vi rimando alla parte descrittiva e alla recensione sul sito di questo nuovo oppo reno 12 pro un saluto da ivan